Cos'è che ti tormenta? Di chi sono gli occhi che ti scrutano dall'oscurità? Kasama, pensa alla tua impotenza di fronte a Ogr mentre uccideva tua madre. Per riuscire a sconfiggerlo, dovrai liberarti del pacifismo dei Kasama e alimentare il fuoco dei Mishima. Sappi che ero intenzione di demolirti del tutto, per poi ricostruirti da zero. Ogni parte di te si trasformerà in un'arma. Lo stile Mishima deve diventare il tuo primo istinto. È il momento. Benvenuti a tutti! Solamente i migliori sono stati invitati a sfidarsi nel King of Iron Fist Tournament. Come va? Ehi! Quella ragazza è un'assassina. Non sembra poi tanto pericolosa. È questo lo spirito! Voi due siete amici. No! Mi piacerebbe dare una lezione al suo nuovo tirapiedi. Spero di vederti sul ring. Buona fortuna per domani. Buona fortuna anche a te. E chi ne ha bisogno? Io sono il migliore. Non rivelarebbe per alcun motivo che sei imparentato con Kazuya Mishima. Kazuya Mishima era il male nella sua forma più pura. Il sangue dei Mishima è infetto. Ti consiglio con tutto il cuore di non immischiarti con i Mishima. Ogni sfidante che sconfiggi ti porta un passo più vicino a sconfiggere Ogre. Accetto la tua sfida. Accetto la tua sfida. Nazi ha bisogno di sper Lupo di Thomas alla borda. Qui la tua sfida.